E quest'oggi sono stati presentati i dati di Union Camere relativi all'analisi della congiuntura agricola lombarda riguardanti il secondo trimestre dell'anno. Ancora una volta i dati sono negativi, sentiamo di cosa si tratta nell'intervista all'assessore all'agricoltura di Regione Lombardia, Gianni Fava. Assessore Fava, oggi sono stati presentati i dati del secondo trimestre per quanto riguarda l'agricoltura, per la sesta volta consecutiva dati negativi. Sì, dati che conferono la tendenza, una tendenza assolutamente negativa che ci dice purtroppo che tutti quelli che da un anno a questa parte ci ricordano quanto sia positivo il mondo agricolo in questo momento, ci dicono una cosa non vera. Noi dobbiamo scontare il fatto che il nostro è un sistema poco competitivo, che nonostante sia in grado di produrre meglio che nel resto del mondo, non ha prodotti che vengono rispettati in quanto tali, e che purtroppo dall'altra parte fa i conti col fatto di non avere più un'industria di trasformazione nazionale, il caso del latte è un caso emblematico. Un comparto particolare che si comporta in maniera diversa rispetto agli altri comparti, abbiamo visto anche oggi altre analisi invece positive. Sì, sulle altre analisi positive andrei piano, perché voglio dire, un'inversione di tendenza che voglio vedere quanto dura, se fosse confermata nei prossimi trimestri sarebbe un bel segnale, ma insomma io perplessità ce l'ho su questo. Il nostro sistema economico che non regge più, questa è la verità, il nostro sistema economico che ha bisogno di riforme, di riforme importanti, di riforme strutturali, e ha bisogno di una politica che faccia politica. Troppo burocrazia e poca politica non hanno fatto il bene nel nostro sistema economico. Oggi si è messo l'accento sul reparto del latte, sappiamo che una delle sue battaglie è quella di portare ad un livello accettabile il prezzo del latte. È evidente che in questo momento il prezzo del latte non solo non è remunerativo, ma non è in grado di garantire la sopravvivenza delle imprese. E quindi noi abbiamo bisogno per salvare le imprese agricole, abbiamo bisogno di avere un prezzo del latte che sia assolutamente in linea con quelle che sono le tendenze del mercato. Non si capisce più che motivo le multinazionali francesi in Italia comprino latte all'estero a 46 centesimi al litro e non vogliono riconoscere un prezzo, non dico almeno uguale, ma simile al latte prodotto a livello nazionale che peraltro qualitativamente è anche migliore. Questo atteggiamento è intollerabile, però noi scontiamo il fatto di aver fatto scelte sbagliate dal punto di vista politico. Non è imputizzabile pensare che la più grossa industria lattiera francese possa essere acquisita da un imprenditore italiano. In Italia è successo il consensualmente contrario. E allora cosa si può fare per quanto riguarda il latte e soprattutto le tende francesi? Noi cercheremo di essere rispettati, visto che in questo momento non lo siamo. Chiederemo e pretenderemo di essere rispettati. Le istituzioni hanno la possibilità di fare le istituzioni e quindi io darò vita a un'iniziativa di tipo diplomatico perché oggi ho intenzione di scrivere una lettera al ministro francese con la quale dichiaro tutto il mio disappunto per l'atteggiamento assolutamente irresponsabile che un'azienda di quella dimensione sta tenendo sul nostro territorio. Fino ad oggi nessuno questo l'ha fatto, io credo che invece sia arrivata l'ora di farlo, di farlo con convinzione, di spiegare alle autorità politiche francesi che da qua inizia una battaglia anche diplomatica sul comportamento di assoluta non reciprocità che queste hanno quando vengono ad operare sul nostro territorio. Un caso diplomatico tra Italia e Francia potrebbe aprirsi? Per il momento mi accontenderei di aprire un caso diplomatico fra Lombardia e Francia, poi l'Italia se vorrà accodarsi benvenga. Un altro settore critico è quello degli aiuti europei, sappiamo dello scandalo. Alcune regioni non hanno fatto quello che devono fare con i fondi stanziati dell'Europa? No, hanno fatto anche troppo, è un eccesso di zelo, però noi registriamo che a fronte di alcune centinaia di milioni di euro di fondi distribuiti a soggetti che non ne avevano titolo, guarda caso, come sempre l'ubicazione territoriale è concentrata in poche regioni del sud, in particolare in Sicilia dove si raggiungono come sempre i record mondiali di malcostume. La Lombardia non è interessata da questo tipo di inchieste a parte del Corte dei Conti che al contrario ha sostanzialmente dichiarato la regolarità di quello che è avvenuto qua. Noi continuiamo a essere sempre troppo bravi, siamo quelli che fanno meglio degli altri, altri ne approfittano, poi alla fine però il conto lo dobbiamo pagare sempre tutti insieme e questo credo che sia intollerabile. Grazie. Grazie.